Sergio Gonzalez della Vigor Senigalli, andiamo a ripercorrere, a commentare questo 0-0 in trasferta contro Lisene, il vostro primo pareggio dopo due belle vittorie, che tutto sommato credo ci può stare. Certo, ci può stare dopo due vittorie, alla fine campo piccolo dove era un po' difficile giocare, comunque ci abbiamo provato, penso che le occasioni per fare gol ce le abbiamo fatte, però dopo una partita con degli episodi non ha voluto entrare per l'importante che almeno abbiamo assumato. Sì, sei entrato nel secondo tempo per provare a cambiare qualcosa, ma l'impressione che poi abbiamo avuto anche dalla tribuna stampa è che una partita aperta a qualsiasi tipo di risultato poteva vincere chiunque. Sì, sì, come ho detto prima in campi piccoli così alla fine può succedere di tutto, è importante che siamo stati compatti a provare a fare il risultato qua e portare i tre punti, però è importante che almeno se non si è vinto non abbiamo nemmeno perso. Sì, prova comunque dell'equilibrio che regna sovrano in questo girone, dopo tre partite nessuna squadra è a punteggio pieno, e anche se è ancora presto e guardare la classifica ovviamente lascia il tempo che trova. Sì, noi andiamo partita a partita, siamo consapevoli che alla fine questo è un girone molto difficile, molto equilibrato, si vede alla fine ogni settimana, ogni weekend con i risultati che può capitare qualsiasi cosa.